Io pesa raga perché mi avete messo curiosità Fermare l'ho rotto Scherzo vi amo Ok So curiosa 106 amo E raga non è passato neanche una settimana Vabbè adesso se mi sono pesata oggi Perché mi avete fatto una testa così Mi peso lunedì prossimo adesso E amo perché una settimana devo fare così Per forza Cioè io mi sono pesata adesso pure dopo pranzo Che bello Però per 100 grammi cancellavo Col 106 Per 100 grammi No vabbè Diciamo che in una settimana Perché mi sono pesata lunedì No mercoledì lunedì Quindi dai 700 grammi Raga sono veramente felice Basta raga che mi stai andando a mangiare So felice amo Troppo Ed è pomeriggio La mattina Vabbè raga Ma hai fatto una testa così Perché ti sai ingrassare E non ce l'ho più fatta Dico no Scusami Cioè io ho patito la fame Tutta la settimana E no eh Eh sono felicissima raga Troppo 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 E niente Adesso mi ripeso lunedì Perché mi sono pesata oggi Che è una capoccia grande Quanto è un mappamondo Quindi va benissimo Va benissimo raga Però per poco cancellavo il 6 Ammo ti prego Ma almeno lunedì prossimo Sarò a 105 9 Sì magari Eh l'allero No Cioè speriamo che hanno usato 105 E 5 Vabbè raga niente Sono felice Veramente Finalmente Vedo questa bilancia Tutta la settimana raga Non mi sono pesata Mi sono pesata a quest'ora Quindi Cioè adoro Adoro Adoro